Amici di Space Viola, eccoci qua, eccoci qua. Allora, i top e i flop di Fiorentina Bologna, video che esce un po' in ritardo, ma per motivi di lavoro, tanto ragazzi, di top c'è di molto poco da parlare. C'è di morti flop, c'è di morti flop e sarebbero troppi, troppi per fare 3 e 3. Quindi vorrei dire chi salvo di questa partita, ovviamente seguite gli amici di Space Viola, video che esce ovviamente nella page di YouTube di Space Viola, ragazzi, vi va seguite anche me, Mr. Viola. Allora, i top, i top, chi salvo? Chi salvo di questa ulteriore sciagurata sconfitta della Fiorentina che è veramente stenta a essere continua, stenta a regalare gioie. Allora, i top, i top, chi si salva? Chi piglia la sufficienza? González, perché secondo me è uno dei pochi che là davanti ci prova, uno dei pochi che ha classe probabilmente, quindi González lo lasciamo tra i top. L'altro top ovviamente è Saponara, che nonostante anche il gol, purtroppo non sufficiente per portare a casa almeno un punticino, perché a questo punto bisogna rosicare anche i punticini, però ovviamente fa un gesto atletico importante, sfortunato per quella traversa che avrebbe sicuramente meritato miglior sorte. Al di là di questo, la Fiorentina comunque non avrebbe meritato né il pareggio né tantomeno la vittoria, però González e Saponara sono quelli che salvo e ovviamente voglio salvare Brecalo, perché è entrato, ovviamente non ha colpe il ragazzo, è arrivato adesso, quindi di tutti quelli che ovviamente mi sembrava più giusto dargli la sufficienza, eccoli qua, González, Brecalo e Saponara. I flop. Ci avete una giornata per vedere questo video? Ce l'avete una mezz'oretta da dedicarmi? No, a parte gli scherzi ragazzi, i flop, purtroppo i flop sono tutti, i flop sono tutti perché i terzini non girano. La difesa male, la difesa male, forse uno dei pochi a salvarsi può essere Milenkovic, che però anche lui inizialmente non regge bene l'incursione avversaria, e poi probabilmente qualche pezza quella la mette, però quarta entra e subito bruciata a freddo, sbaglia la marcatura e si piglia gol. Igor viene ammunito e salta la Juve e quindi poi viene fatto uscire. Quanti flop vedo Jovic? Non ne parliamo. Purtroppo ieri sera non ha girato neanche Baracca e Bonaventura. A Marabat ragazzi, non lo so, forse giocare con la maschera è un gli riesce, però io il più flop di tutti, perdonatemi, lo do a Vincenzo Italiano. Al di là della partita, al di là della sconfitta, però andare in conferenza stampa e dire con quella faccia, permalosa, presuntuosa, incredula, che il coro fate ridere è esagerato, non è meritato, ma con quella arroganza, perché l'ha detto quasi con arroganza, ma io il coro fate ridere non mi trovo assolutamente d'accordo. Non so che cor dovevamo fare Vincenzo. Cioè fammi capire cosa dovevamo dire a fine partita. L'applauso, bravi ragazzi, dai sarà per la prossima volta. Poi si è ripreso, perché a un certo punto secondo me si è accorto di aver detto una grande castroneria, perché comunque il pubblico per tutti i 90 minuti ci ha sostenuto, quello è successo al fischio finale. Faremo del nostro meglio per ricredere chi pensa che abbia visto una squadra che fa ridere. Oh Vincenzo, non siamo mia solo noi, eh? A parte sono 30.000 spettatori che pensano che questa squadra faccia ridere, ma non siamo mia solo noi, eh? Ma tutti gli addetti a lavori dicono le stesse cose. Vincenzo è in tre e a pensare che questa sia una squadra che sta giocando bene a pallone. E poi, altro flop, perché se mi viene in conferenza stampa, mi viene a dire che c'è un problema là davanti, che il nostro deficit rispetto alle altre squadre là davanti, e dopo che c'è stato un calciomercato, tutto un periodo di nazionali, mondiali, per poter parlare con la città e mettere i puntini sulle i, Pradè mi dice che non è stato mai cercato la punta, allora vuol dire che on boom parlate, oppure che a fine stagione, se tu riesci a portare a casa una coppicella, ciao ciaoone, ai saluti. Ragazzi, perché se no, eh, io veramente, quindi il flop dei flop, tutta la squadra è stato un flop, a parte quei tre che ho salvato, però il flop dei flop lo do a Vincenzo Italiano, perché in conferenza stampa, si, ragazzi, i cori li prendiamo, ce li facciamo nostri, ok, cercheremo ovviamente di trasformare questi cori in applausi, questo è quello che dobbiamo fare, testa bassa e lavorare, senza fare troppo il presuntuoso, il permaloso, non ce li meritiamo, è troppo esagerato, ma è perché tu pensi, a parte, è vero, perché l'ho già detto, è vero, noi non si fa ridere, noi si fa piangere, ecco, questo è giusto. Ragazzi, top e flop di Fiorentina Bologna, ve l'ho dati, come sempre, seguiti gli amici di Spessio, di Spessio, e seguite anche me, Mister Viola, in tutti i miei social. Ciao ragazzi, e come sempre, forza di ova!